La Puglia è tra le regioni italiane che più hanno contribuito al rilancio e alla diffusione delle energie rinnovabili, tanto da essere presa ad esempio da altre realtà territoriali. Con l'avvio di un nuovo ciclo di programmazione dei fondi del Poi Energia, si pongono molti interrogativi sulle scelte complessive nazionali. C'è bisogno di più trasparenza e c'è bisogno di capire qual è la strada. Se si dice andiamo verso il futuro, il futuro è l'energia del sole, l'energia del vento, l'energia pulita. Beh, allora c'è il passato però che ostinatamente resiste da parte del governo nazionale. Sono le trivelle ed è l'idea che tu possa immaginare una filiera di produzione di ricchezza violando l'Adriatico, la Costa e un ecosistema tra i più incantevoli del mondo. Ecco, il governo, diciamo così, tarda, tutti i governi hanno tardato a recuperare lo scettro. Lo sviluppo dei territori ha sottolineato il sottosegretario Velova al pari passo con l'efficientamento energetico da inserire in un quadro generale di governance dei territori. Il programma operativo interregionale ha sicuramente già dato i primi risultati ma le difficoltà sono ancora tante. Noi chiediamo più trasparenza e diciamo un'idea di fondo che d'ora in poi gli incentivi siano sempre di più alle famiglie, alle piccole aziende, ai soggetti che sono capaci di dotarsi di strumenti per l'autoproduzione e l'autoconsumo.